Io concentrerò il mio intervento sull'Ucraina. Mi permetto però di dare un consiglio alla Presidente del Consiglio. Su quella sedia io ho visto tanti Presidenti prima di lei fare trionfalismo su dati economici. Non ha mai funzionato un granché. E non perché non ci sia qualche dato vero in quello che lei dice, ma perché per la famiglia italiana che ha difficoltà di accesso alle cure, ha difficoltà di accesso al tempo pieno, ne è cambiato davvero molto poco. Le do un consiglio gratuito, eviti trionfalismi perché l'opinione pubblica normalmente reagisce molto male. Io sono stato in Ucraina come la Presidente del Consiglio da poche settimane e vorrei che non ci nascondessimo qui il fatto che la situazione in Ucraina è drammatica. Ed è drammatica per la semplice ragione che gli ucraini oggi sono in grado di sparare uno a sei rispetto a russi di proiettili di artiglieria e droni. E che l'ampliamento della leva metterà alla prova Zalensky che dovrà mandare ragazzi sotto i 25 anni a morire. Secondo me se fate un po' più di silenzio quando parlo dei ragazzi morti in Ucrania vi viene bene, però fate come vi pare. La riconversione economica russa è partita da parecchio tempo. Oggi è in grado di produrre tre volte le munizioni dell'Occidente. Ma c'è un punto che in queste settimane è avvenuto. Le dichiarazioni di Putin e del suo collega Medvedev sono chiarissime. Non c'è nessun desiderio di tregua. La tregua, l'unica tregua possibile, qui la può fare Santoro in televisione quando va a un talk show. I russi non hanno nessuna intenzione di mollare. E dunque noi dobbiamo chiamare le cose come si devono chiamare. Ci sono persone in quest'Aula che vogliono la resa dell'Ucraina e che contemporaneamente alzano un problema parlando di fascismo continuamente quando qui il vero fascista si chiama Vladimir Putin. E questa dovrebbe essere una cosa trasversalmente riconosciuta. Il congresso americano è paralizzato dai veti di Trump. I 5 miliardi di euro che l'Europa sta dando per le munizioni verrebbero utilizzati in pochissimi giorni. Dico che verrebbero perché non stanno arrivando. Gli ucraini stanno tenendo Putin lontano da noi. Noi abbiamo 350 miliardi di euro di asset dei russi sequestrati ma non li smobilitiamo. La verità è che le sanzioni occidentali sono ancora sanzioni fatte da ridere. Una parte consistente del missile ipersonico di Putin è costruita con componenti americane e ancora accade. Noi non stiamo prendendo sul serio quella che è un cambiamento della storia che ci mette di fronte a una Russia nuovamente aggressiva e che perdurerà per molto tempo a venire. Guardi, nonostante il Presidente Macron sia un importante membro del gruppo Renew io non sono d'accordo con tutte e tre le cose che ha fatto in questo momento. La prima, mandare o dire che si vogliono mandare soldati francesi senza coordinarlo in ambito Nato è un indebolimento del fronte europeo e rischia di aiutare Putin piuttosto che danneggiarlo. In secondo luogo, le riunioni di condominio sono sbagliate. Chiunque tragga gioia dal vedere l'Italia esclusa da una riunione di grandi paesi commette un gravissimo errore. E guardate, non lo dico a questo governo, quando il Presidente Conte, allora Presidente del Conte I, fu chiamato nel Parlamento europeo Burattino di Salvini tra gli applausi, mi spiace dirlo, non solo del Partito Democratico ma di tutta la destra che non era al governo, io dissi che quello era un insulto all'Italia e si sa che non ho particolari simpatie per il Presidente Conte. Noi questo orgoglio dobbiamo un po' ritrovarlo. avendo detto questo, Presidente, e ribadendo che l'impegno verso l'Ucraina ha tre obiettivi. Primo, aiutare un popolo aggredito. Secondo, contenere la Russia. Contenere, perché senza contenimento, come abbiamo fatto con l'Unione Sovietica, il rischio di una crisi è più ampio. Ma terzo, non arrivare al conflitto diretto con la Nato. Questi sono i tre obiettivi che dobbiamo perseguire. Avendo detto questo, direi alla Presidente del Consiglio, se fosse qui, ho anche apprezzato il suo intervento su Orban quando c'era il rischio di veto sull'invio di armi in Ucraina. Ma non può sostenere... Adesso voi dite che la Polonia è rientrata tra le reazioni democratiche perché ha cambiato governo. Certo, ha cambiato governo che rispetta lo Stato di diritto. La questione non è il governo in senso astratto, ma l'appartenenza allo Stato di diritto, che è precisamente la ragione per cui noi sosteniamo gli ucraini contro una autocrazia, una dittatura. Se la Presidente del Consiglio questo non l'ha chiaro, allora abbiamo un gravissimo problema. E per cortesia, non sostenete che tutto va bene nella maggioranza, così come non si può sostenere che tutto va bene nella sinistra. La verità vera è che l'unici campi di cui dovremo parlare oggi sono divisi dall'atteggiamento nei confronti della crisi ucraina, della Russia e dell'estremismo. C'è in un campo chi vuole mantenere, custodire i valori occidentali, chi sa che tutto ciò dipende dalla capacità di difendersi e quindi di un'Europa più unita, chi lotta contro l'integralismo e l'integralismo islamico in particolare e in tutte le sue forme, e c'è chi si volta dall'altra parte. C'è chi fa finta che si possa fare la pace, ma c'è anche chi ha un rapporto strutturato, ufficiale, consolidato fino a prova contraria con Vladimir Putin. Il problema ce l'ha la sinistra e il problema ce l'ha la destra. E voi potete pensare che tutto questo può essere messo sotto il tappeto, forse lo può essere messo oggi, ma questo confronto tra l'Occidente, le autocrazie aggressive, questo confronto tra chi è custode, applica valori democratici delle democrazie liberali e chi li vuole distruggere, questo confronto andrà avanti per anni. E questo confronto sarà il confronto che tumulerà il bipolarismo italiano. Perché non reggerete voi a sinistra e non reggerà lei, Presidente del Consiglio. Allora, nella scorsa sessione le ricordo che la Lega ha presentato un ordine del giorno che poi è stato tagliato in larga parte e sostanzialmente diceva ci sono un sacco di elezioni e gli italiani sono stanchi e riconsideriamo la strategia sull'Ucraina. Il suo Vice Presidente del Consiglio è in essere un accordo con Russia unita di Putin e non abbiamo mai visto una lettera dismentita. Giudica le elezioni russe corrette, la volontà del popolo quando sappiamo che la democrazia liberale non è il processo di voto, ma il processo di voto in un contesto libero. E non è meglio Giuseppe Conte che non dice niente pensando che così non lo nota nessuno. Sono due facce dello stesso problema che destra e sinistra oggi hanno. e che emergerà nel tempo. Perché non è più, scusatemi, il momento storico per cui si può far finta di nulla perché ci richiederanno di non far finta di nulla. E quando la guerra diventerà più difficile e il costo politico di sostenerla diventerà più ampio, lei vedrà, signora Presidente del Consiglio, quanto ci metterà il suo vicepresidente a darsela a gambe. E voi vedrete quanto ci metterete, Partito Democratico, a incominciare a dire, avete già iniziato, che non si mandano armi, si manda materiale, come se fossero le moffole invernali e i moonboot. Questo è il punto in cui noi dobbiamo sapere che il bipolarismo cadrà e dobbiamo prepararci avendo chiaro che il campo non è largo, non è stretto, non è variopinto. Chi difende l'Occidente, chi sta con l'Occidente, chi sta con l'Europa perché solo sotto l'ombrello europeo siamo sicuri e chi non ha il coraggio di farlo. E chi non ha il coraggio di farlo non è un democratico vero. Grazie. Grazie. Grazie.